Ciao a tutti amici di Balcone Verde e benvenuti a questa nuova puntata. Scusate se per alcuni mesi non sono stato presente, ma ho avuto molto da fare. Comunque, quello che vedete è il famoso frutto del cipresso, quello magro, cosiddetto toscano. E questi sono i semi che vedete, che sono usciti da questo qui. In pratica si prendono, quando sono ancora verdi e chiusi soprattutto, che non hanno queste crepature, appunto questi frutti, e si lasciano seccare al sole o in una zona al caldo, e poi dopo un po' si scuotono e rilasciano i semi. Io, per agevolare la fuoriuscita dei semi più piccoli, quindi quelli veri e propri, ho preso questo contenitore di un vecchio yogurt, l'ho messo da dentro e poi ho fatto questo lavoro. Facendo così, l'oro, quando sono maturi, fuoriescono dal guscio di questa grande drupla e si possono poi mettere nel semenzaio, oppure appunto in un vaso che avete a disposizione con della terra e seminarli per far crescere nuove piantine. In un prossimo video vi farò vedere come si seminano questi semi di cipresso. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel pollice in su e condividetelo sui social. Ciao, alla prossima!